che qui nella zona dei mercati di traiano troviamo delle evidenti immagini del disagio urbano come vedete questa transenna messa qua è mancante di una base ma lo stesso con quest'altra come vedete anche qui ci sono transenne buttate alla rinfusa rotte la signora si rifiuta la polizia è lì e la signora ha liberamente fatto un'inflazione vietata a pochi metri dai vieti guardate come vedete l'immagine del degrado I always find Rome wonder how did you find Rome after 30 years every time I come to Rome I only find it better loser or better always better always better thank you ecco siamo a Fontana di Trevi Già arrivano le prime transenne Come avete trovato Roma spettacolare ma a livello di trasporti mezzi pubblici funzionano la metro avete visto scale rotte difficoltà comunque tutto a piedi così non abbiamo avuto problemi di mezzi pubblici sì ecco invece a livello di rifiuti avete visto dei rifiuti per strada comunque come organizzata sinceramente non tanto per ora mi sembra bene perfetto tanta gente è bellissimo turisti da dove vengo da Napoli da Napoli e come avete trovato Roma rispetto a Napoli a livello di mezzi pubblici qui sappiamo che la metro Colosseo è un po' con dei lavori in corso ma come la gran parte delle stazioni noi fin qui ci siamo mossi prevalentemente a piedi però ieri abbiamo preso il pullman è stato abbastanza preciso nell'arrivo e anche nella diciamo nel mondo nei suoi movimenti quindi per la piccola esperienza che abbiamo fatto bene e la situazione dei lavori in corso qui vediamo anche che ci sono delle transenne dove solitamente le persone si affacciano per delle foto è un peccato perché poi sono dei mezzi sono dei luoghi di interesse artistico quindi diciamo tutto questi lavori vanno un po' a deturpare quello che il paesaggio artistico quindi è davvero un peccato spero che possano finire in breve termine questi lavori siamo in Colosseo con due turisti, come hai trovato Roma, la metro di Roma e il Colosseo, il lavoro in progresso? sembra bello sì, sì io voglio dire, amiamo Roma, è bello, è uno dei nostri giorni è uno dei nostri amici siete a Roma, due turisti da dove venite? Milano da Milano, come avete trovato Roma voi che a Milano invece avete dei trasporti pubblici ben più efficienti diciamo? in realtà siamo qua da mezz'ora quindi dobbiamo ancora attestare l'area però per ora mi sembra meno caotica rispetto a Milano perfetto e invece la situazione dei lavori qui vediamo dei lavori in corso comunque avete avuto modo di vedere un po' di rifiuti sparsi per la città oppure avete trovato abbastanza bene avete frequentato solamente qui il centro diciamo? ma per ora mi sembra abbastanza pulita rispetto a Milano direi di sì signora come ha trovato Roma? migliorata confronto prima perché prima era un po' più sporca sinceramente adesso lo sto vedendo più pulita e più ordinata allora piazza di Spagna, diversi turisti in città, come avete trovato Roma? cioè come la vedete? mi sembra che mancano i fiori prima c'erano i fiori adesso non li vedo e niente io l'ho trovata abbastanza buona grazie grazie grazie